Le nostre razze unite da una storia a lungo dimenticata e un futuro che affronteremo insieme. Io sono e invio questo messaggio affinché il passato venga ricordato perché è di quei ricordi che noi viviamo. La difficile e l'ideale per me, per il Real, sarebbe tornare a Milano. Ogni momento qui, in questo ritorno, sarà dei momenti indimenticabili. Bentornato a casa Ricco. Per rivedere tutti, come ha detto il signor Gagliani, mi sembra di non essere mai andato via. Cosa poteva darmi una squadra qualsiasi per aiutarmi a ritrovare soprattutto la gioia di giocare a calcio. Il posto più bello sarebbe il Milan. Per questo è la mia scelta. Quello che voglio soprattutto è avere questa gioia di giocare a calcio. Grazie. 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 Grazie.